FIGEP 2024 continua, ci troviamo allo sen della Webuilt Italia, un'azienda di Aligroup Italia che riunisce alcune tra le maggiori aziende presenti non solo in ambito ORECA ma anche in tanti altri settori che noi puntualmente citiamo e di cui parliamo sui nostri strumenti. Siamo in compagnia di Vincenzo Cassana, il direttore commerciale dell'azienda a cui ora chiediamo, non prima di averlo salutato e dargli il benvenuto, quali sono i 14 brand di proprietà di Webuilt. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. La Webuilt Italia è una delle società di territorio, quindi ci occupiamo del mercato italiano, ma è una multinazionale mondiale acquisita dal gruppo Ali. Posso dire che sotto il brand Webuilt abbiamo diversi marchi di prodotti e di macchinari utili per la soluzione migliore di lavoro per chi fa pasti e produce cibo nella ristorazione di qualsiasi canale, dalla pasticceria, panetteria a ristoranti, catene di ristoranti. Posso citare per esempio Combo Temp per quanto riguarda i forni professionali, abbiamo il Mary Chef che è il forno ad alta potenza, abbiamo per esempio le frigitrici Frymaster che sono state create per avere i più alti standard di sicurezza per il personale che opera dentro i locali dove friggono cibo di qualsiasi livello, quindi trattano olio bollente. Poi abbiamo il Delfield che si occupa del freddo, quindi sono sistemi di abbattimento del cibo, frigoriferi, banchi frigoriferi. Abbiamo per esempio le Wmax che invece sono lavastoviglie a cappottina, da sottobanco, oppure si possono comporre a seconda di come il cliente ha esigenza di strutturare la sua cucina e il suo locale di lavaggio. Abbiamo sotto il marchio Wealth abbiamo la Garland che si occupa di produrre piastra di induzione ma anche dei macchinari speciali per le griglie ad alta pressione. Insomma sono tanti. Abbiamo Lincoln per esempio, il forno pizza a nastro che è molto utilizzato nelle cattorie di produzione di pizzerie dove i numeri sono importanti e i tempi di lavoro devono essere molto ristretti. Vincenzo, insomma io mi rendo conto che ricordare a memoria, soprattutto in un momento in cui bisogna dire in cinque minuti praticamente tutto quello che si può, è davvero difficile perché intanto voi con le attrezzature realizzate con questi 14 brand andate a coprire qualsiasi esigenza in ambito ristorativo in qualunque attività in Italia, che sia piccola ristorazione o grande ristorazione. Corretto Fabio, la nostra missione è di dare la miglior soluzione possibile a chi ha la necessità di produrre del cibo cotto, quindi sotto il brand raccogliamo tanti macchinari che possono dare veramente, possiamo creare un layout personalizzato per il nostro potenziale cliente, in questo modo lui avrà un sistema anche collegato a internet per poter avere un controllo da remoto dentro delle apparecchiature. Siamo contenti di questo progetto, siamo contenti dei marchi che rappresentiamo e ora ci stiamo mettendo sul mercato italiano con questo profilo professionale. Ovviamente Ali Group ci dà una mano perché è conosciuta nel mondo, è il più grande gruppo che commercializza e progetta cucine in tutto il mondo, insomma di altissimo livello, da hotel. Tutto questo lo fate attraverso la rete di venditori che vanno a contattare i dealer, i concessionari già presenti e siete alla ricerca anche di alcuni concessionari per le aree ancora libere. Corretto Fabio, il nostro lavoro è di lavorare con i partner sul territorio, quindi selezionare i migliori distributori, ci avvaliamo della collaborazione di agenti commerciali sul territorio, abbiamo un team nostro di commerciali che dà supporto al territorio per creare e collaborare una rete di vendita professionale, il più professionale possibile. Il cliente deve essere gestito fin dall'inizio, cosa ha bisogno e noi riusciamo poi a cucire addosso a lui il vestito migliore possibile. Organizziamo delle dimostrazioni dal vivo, abbiamo delle sedi dove sono attrezzate per poter vedere dal vivo la produzione, abbiamo un team di chef executive come quelli che sono alle mie spalle che collaborano con noi e che vanno a presentare i migliori risultati di cottura a seconda di che cosa il cliente vuole ottenere, pasticceria, gastronomia, cottura a bassa pressione, cottura notturna, tutto quello che noi conosciamo essere di interesse e di esigenza per i nostri clienti, dell'oreca e non-oreca. Ecco io nel frattempo, proprio mentre ne parlavi, ascoltavo loro che stanno facendo questo show cooking e presentando quindi i piatti che state guardando in questo momento. Sono molto discreti nonostante la nostra presenza e sono degli abili professionisti a disposizione anche e soprattutto dei vostri clienti. Assolutamente sì, loro non solo in questo momento sono impegnati in uno show cooking dove rappresentano quello che normalmente fanno nella vita quotidiana utilizzando le apparecchiature del brand Welbit, quindi i forni Convoter, i forni durante l'anno sono impiegati con noi per fare che cosa? Start up al cliente che ha acquistato l'apparecchiatura, per fare dimostrazioni locali, per essere più vicini sul territorio ai clienti o anche solo per fare della sperimentazione, quindi assicurare al cliente che ciò che vuole viene sperimentato e poi viene confezionato su una chiave USB che caricherà nel suo forno Convoter o MeriShare che sia. E infine, prima di dare un indirizzo di posta elettronica di riferimento attraverso il quale andare a scrivervi per saperne di più, cercare di elaborare una nuova relazione commerciale o semplicemente avere una demo dei prodotti attraverso il concessionario di turno. In che modo è possibile acquistare e o noleggiare i vostri prodotti? Allora, come indirizzo base posso indicare la tradizionale email info-wellbuilt.it dove il cliente ci manda le sue richieste, le sue esigenze e noi lo facciamo contattare subito dal commerciale più vicino. Per quanto riguarda invece le opportunità di acquisire la tecnologia, noi ci avvaliamo anche di professionisti della finanza come Lorenzo e Lagrenco con i quali possiamo confezionare dei pacchetti di noleggio operativo leasing e quant'altro che ha a che fare con una dilazione di pagamento operativa per il nostro cliente. E quindi assolutamente conveniente e sostenibile anche per le piccole attività che talvolta pensano ma magari facendo due conti in tasca non posso fare un investimento così grande o meglio grande insomma alla loro portata del momento e con pochi euro al mese riuscire ad avere il prodotto riuscire a produrre i prodotti della ristorazione con grandissima professionalità con le vostre tecnologie senza il gran peso del debito. Certo Fabio, cosa succede? Quando il nostro potenziale cliente ha riconosciuto che dal lavoro fatto da noi il suo business migliorerà, noi siamo in qualche maniera disponibili a creare per lui un modo per essere più semplice acquisire la tecnologia che in quel momento gli ha garantito il risultato che vuole ottenere quindi ci appoggiamo ovviamente a professionisti esterni di valido e di profilo riconosciuto in tutto il mondo insomma questo per dare anche al piccolo l'opportunità di sviluppare il suo business con la miglior tecnologia possibile al mondo. Vincenzo Cassana, direttore commerciale di Wellblitz, grazie, grazie per il contributo. E viva Siget 2024 che è il nostro punto di partenza. Grazie mille, grazie a tutti.